Evidentemente il governo si è reso conto del fatto che i costi, soprattutto del danno sociale e della cura, sono superiori a questa parte di entrate che non si avrebbe più a seguito di questa proposta. Italia è il primo posto in Europa e terzo nel mondo, dopo Stati Uniti e Giappone, per la dipendenza patologica da gioco d'azzardo. Peschare e l'Abruzzo tra le prime in Italia per giocate pro capite, circa 1.500 euro a testa. Si calcola che nella città di Pescara ci siano 1.500 giocatori patologici, attualmente in cura presso il CERD dell'ospedale civile di Pescara. Sono 150 i pazienti in cura. Purtroppo e per fortuna sono sempre di più le richieste di aiuto, significa che sta emergendo sempre di più questa problematica da parte delle persone che prendono sempre di più coscienza. Dopo l'annuncio del premier Renzi, che punta a ridurre del 30% la diffusione delle slot, e visti i costi procurati alla sanità per le tante dipendenze create, parte un nuovo appello da parte degli esperti. Noi qui a CERT curiamo le patologie proprio da gioco d'azzardo da due anni e voglio dare un messaggio ai cittadini, a tutti coloro i quali hanno questo problema, dentro le case e non sanno dove rivolgersi, c'è questo servizio presso l'ospedale di Pescara, CERT è assolutamente gratuito, basta fare una telefonata si può chiamare e soprattutto da questa dipendenza si può uscire. Grazie. Grazie.